campagna elettorale e vi dico con molta sincerità che questa sera ci sono due anomalie in questa piazza, una per sembra che la vedo che rispettino perché loro anche dall'altra parte avevano previsto di fare alle 19.30, guarda caso, forse probabilmente in un bagno di folla. Caro Paco, stai in questa piazza, io ho visto che tu hai scritto lì su internet, io non ne capisco di queste cose, a Bacoli un bagno di folla, erano 33 persone, quei famosi 33, erano 11 di quarto, 11 di Bacoli e 11 di Monte di Procida, dei quali il presidente del circolo Sant'Antonio che corre sempre, no corre perché è abituato a correre, il suo vicepresidente e tanti altri buoni amici che vanno sempre bene, beati loro, beati loro, io veramente li ammino, li ammini tanto.